Il mio primo video trattava come Sant'Agostino avesse anticipato l'evoluzione, soprattutto quella cosmica. Poi ho scoperto che uno dei pari della teoria del Big Bang forse è Georges Lemaitre, un preleggio suita. Pio XII addirittura credette che Lemaitre avesse scoperto l'esistenza di Dio. Ad Einstein è attribuita questo aneddoto. Si dice che Einstein aveva incontrato Lemaitre e aveva detto che certo si vede proprio che era un prete. Perché il Big Bang ripone il fatto che l'universo ha avuto un inizio, esattamente come dice la Bibbia, a un certo punto le cose hanno iniziato ad esistere. E non la scienza credeva che l'universo esistesse da sempre. Questo era uno dei punti forti dell'ateismo. E' un modo scienziale, infatti, il Big Bang ricorda proprio la creazione biblica. Ma non finisce qui. Il filosofo analitico, teologo e apologeta cristiano evangelico, William Lane Craig, crede che il Big Bang prove addirittura l'esistenza di Dio, sia dal punto di vista logico-formale che scientifico. Questo è una variante dell'argomento cosmologico chiamata Karam, che significa Teologia Islamica Medievale, perché questo argomento deriva da quello proposto da Al-Ghazali nel Medioevo. In inglese è chiamato Karam Cosmological Argument, abbreviato K-C-A, cioè K-C-A, si scrive in ben italiano. E non posso né dilungarmi né pronunciarmi su tale argomento per via della sua complessità, ma vi espongo brevemente a cosa dice Craig. Tutto ciò che è cominciato ad esistere ha una causa. L'universo comincia ad esistere, di conseguenza l'universo ha una causa. Secondo il Big Bang, l'universo, e quindi spazio, tempo e materia, hanno iniziato ad esistere. Le uniche obiezioni che si possono fare a questa argomentazione sono di natura scientifica, perché dal punto di vista logico-formale è praticamente perfetto, come il psicologismo aristotelico, tutti conoscono, tutti gli uomini sono mortali, Socrates è un uomo e Socrates è mortale. Esistono tante alternative al Big Bang, posso mettere tante discussioni, almeno una delle premesse. Sai di fatto che effettivamente stiamo cercando in tutte le maniere i cosmologi contemporanei di ritrovare delle alternative al Big Bang che non provvedono a un inizio assoluto, o altre caratteristiche che renderebbero il Big Bang, non solo compatibili, ma addirittura il Big Bang che crederebbe necessariamente ci sia stato un intervento divino. Craig, nei suoi scritti, analizza ogni obiezione al Big Bang, e per lui anche nelle versioni più moderne, anche includendo il multiverso, è impossibile che non esista un inizio assoluto in cui le cose abbiano iniziato ad esistere. Per analizzare le sue argomentazioni vi lascio gli articoli e i video in descrizione per fare voi stessi le vostre considerazioni. Io di fisica non ne capisco nulla, per cui non saprei cosa pensare. Inoltre, il biblista ed ebraista Danilo Vaglia, che molti di voi sicuramente già conoscono, come il professor Testo, col protagonista di molte parodie su internet, e io accetta di buon grado perché è un simpaticone, propone un esegesi della Genesi, secondo cui i passi della creazione sono compatibili con l'equazione di Einstein e le onde gravitazionali, sempre basandoci sul testo originale ebraico. Nemmeno su questa cosa non mi posso esprimere. L'unica cosa è che vado a commettere il classico errore di ritenere il Big Bang uno scoppio, come quello di un petardo, e dato che da un'esplosione non può generarsi nulla, allora il Big Bang sarebbe una cretinata. Poi non sappiamo che il Big Bang è una conseguenza delle equazioni di Einstein. Per concludere vi dico solo una cosa. Pocchi sanno che nel 2014 Papa Francesco si è espresso esplicitamente a favore della teoria del Big Bang. Pocchi sanno che il Big Bang è un'esplosione di un'esplosione di un'esplosione di un'esplosione di un'esplosione di un'esplosione.